ore di tensione ieri mattina a Leverano e a Torre San Giovanni, protagonisti due bambini rispettivamente di 3 e 5 anni spariti nel nulla e rintracciati dopo qualche ora fortunatamente sani e salvi. Nel primo caso alcuni residenti del comune di Leverano e cittadini di passaggio hanno notato in via libertà un bimbo di appena 3 anni a girarsi da solo lungo quella strada. Il piccolo, di origini africane, non sembrava mostrare in realtà segni di spaisamento né paura, panico e apprensione semmai sono diffusi tra gli adulti. Alcuni di loro infatti sono rivolti immediatamente al 118 e carabinieri della stazione locale. Poco dopo, insieme alle forze dell'ordine a sopraggiungere sul posto, è stata l'amica di famiglia cui i genitori avevano affidato il piccolo già da ieri. L'allarme è subito rientrato, il piccolo sarebbe uscito dal giardino probabilmente per seguire un gatto. A Torre San Giovanni, località Oasi degli Angeli, protagonista un bimbo di 5 anni che si trovava in uno stabilimento assieme ai genitori, una coppia di turisti lucani in vacanza nel Salento. Un attimo di distrazione e il piccolo si è allontanato facendo scattare l'allarme. Immediata la richiesta di soccorso ai militari della guardia costiera dell'ufficio marittimo che hanno avviato le ricerche con il supporto dei carabinieri della stazione locale. Sono prontamente state diramate a tutti i lidi circostanti le informazioni sulle caratteristiche del bambino che al momento del suo allontanamento indossava un costumino rosso. Il piccolo è stato ritrovato un'ora dopo da un bagnino a circa 4 chilometri di distanza in prossimità del Lido Pineta in zona Fontanelle. Gli uomini della guardia costiera hanno così provveduto a riportare il bimbo dai suoi genitori. Per loro grande sollievo dopo tanta paura. Grazie a tutti.